quando arriva buongiorno eh sei contenta oggi eh ciao amore si si sono contentissima allora la mia macchina nuova fa un sacco di cose hai i sensori parcheggia da sola hai i sedili che si riscaldano sai quando fa freddo e poi leggi il messaggio automaticamente e come? come fa a leggere il messaggio? col bluetooth che una figata si buongiorno amore è stato bello fare l'amore con te cioè tu hai fatto tutto questo cassino ti sei comandato la macchina nuova per dire che io sono cornuto cioè la tecnologia mi ha detto che sono cornuto no no ti sei chitta cioè ma ti rendi conto cioè tu sei peggio di madre è vero me la so fatta tua madre però scusa ma hai capito lo picco la macchina mi ha detto che sono cornuto ma stiamo scherzando posso parlare io adesso? parla voglio vedere la scusa che hai parla il mio telefono è spento quindi è arrivato a te stro vaffanculo a mamma questa cazzo tecnologia è questa dove la provo a mandare il messaggio stazzo ciao